Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Ma che c'è il telefono? Sì! No! 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 Quando ritrenda, non abbiamo che ritiro la pancia! No? No! No! Non fa il cicino pure di sposare! Sì! Andiamo innanzitutto se ci piace questa sangria! Questa quella è la seconda salsa! Sì, sì, ci sta! Quella là, una a salè e una a salè! La fa un po' là! E due tavoli! Una, una, una po' là! È vero? Non ci... 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 Capito? Allora... André, la sangria la teniamo da parte! Il comodoro lo possiamo fare in avanti se non ci sta! Non ci... 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 Non ci...